E restiamo a Ragusa dove è stata presentata questa mattina presso la sede della Scuola Regionale di Sport la giornata dello sport che si svolgerà domenica 4 giugno. L'appuntamento è servito anche per fare il punto sulle condizioni della struttura e sui progetti promossi per il suo miglioramento. Sport in festa domenica prossima in Viale Napoleone con le Ianne a Ragusa. Anche la città capoluogo aderisce alla giornata dello sport promossa dal CONI nazionale con il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Tra le iniziative promosse dalle federazioni blee, la giornata ecosostenibile, il duatron e il mini volley che si terrà a comiso nel parco dell'Ippari. L'evento organizzato dal CONI di Ragusa, dal CC, dal CIP, dall'INAIL, dalla FIPAV e dal Comune è stato presentato stamane nella sede della Scuola Regionale di Sport. La location è il Viale Colai Anni, a partire dallo stadio Colai Anni e fino al centro polifunzionale. È praticamente un'intera isola pedonale di sport e di questo siamo particolarmente felici. In campo tante discipline sportive, danza, arti marziali e il duatlon, bici, corsa, bici. E con noi abbiamo, ci siamo fatti promotori di questa giornata, della seconda giornata ecosostenibile e approfittando anche dell'evento importante della giornata nazionale dello sport. In questo evento parteciperanno diversi assistiti INAIL, ma non solo perché l'evento è rivolto a tutte le persone che hanno una disabilità sia fisica che mentale. E con l'INAIL che si apre all'esterno, proprio perché vuole favorire questa integrazione nel territorio. L'appuntamento è servito anche per fare il punto sulle condizioni della struttura e sui progetti per migliorarla. Questa è la casa che il CONI ci ha dato, questa è la situazione, però stiamo assolutamente lavorando per ripristinare la situazione. Anzi, in questo va dato un plauso ai responsabili della provincia che in una maniera precisa, attenta e veloce ci stanno dando i giusti riscontri per poter riprendere con gli antichi fasti. In che modo vi state muovendo? Assolutamente questo è un intervento urgente, questo è lampante, insomma non ci vuole un tecnico per spiegarlo. Il primo intervento importante e fondamentale è quello di limitare le filtrazioni. Limitate le filtrazioni, la scuola diventa fruibile al 100% e come è nei miei programmi e progetti, come è giusto che sia, verrà aperta a tutte le federazioni e le società sportive.